Dovremmo fare un buon spazio, sto scherzando, resterò ben volentieri. Oggi per me è stato un buon spazio qui a Lucca, grazie di cuore. Per me finisce qua, per loro continua. Grazie Luca! Ciao Palli! Ovviamente grazie a Stab perché i sogni ce li ha regalati anche lui e tante tante risate. Ho beccato anche un bacino da Stab per ritirare il premio dalla scrittrice di Avelio. Mi sono trovato fra zombie. E' arrivato il gruppo di Falghias, però aspettiamo perché per evidenti ragioni di lì non ci passa neanche uno spingo. Intanto vedo che si sono... Sono stati evocati due tirolesi dal niente che sono andato a ballare. E cavolo, potevate venire prima quando erano in divietta? Sono degli elfi domestici anche loro. Ah, il famoso elfa domestico Jubei. Bravissimi ragazzi!